Tre pelle o testini abbiamo detto vetture mancante con il piede libero soltanto tre vetture sicuramente una vettura Rientra, rientra, oh creda che vada al campione italiano, il campione numero 51, Polichini, Polichini, Polichini e Frisali, naturalmente Frisali, Solare, con Solare accettando di avere partecipato a questa grande finale. Direttore, se vuoi interrompere, lo fai fare quando vuoi, altrimenti procedi. Soltanto il tasto meccanico per fermare ormai il campione italiano Polichini che si è giudicato oggi e si è giudicato anche. ... C'è ora, già va in, perfetta. Rampato, pantarello, bagatto. chi non è in grado di partire con visione libera, chi non è in grado di partire con visione libera? Viste il trofeo Tassini per la montagna, chi non è in grado di partire con visione libera? In carica, naturalmente, 2009-2010!